Benvenuti al video. LAMP-B-FONT-ET-LA097-X-N-FOR-FONT-B-PAN-ASONIC-B-FONT.JPG Ersatz Lampe Beamer Lampe Proyector Lampe Meet Geus EFR Panasonic PTA X100E PTA X200E Qualità Premium, l'alta luminosità, la sostituzione della lampada del proiettore di lunga vita. Modulo intero Lampada Contiene lampada, case, cavi e connettori. Garanzia totale 90 giorni. Compatibile con i seguenti proiettori. Panasonic PTA X100E PTA X200E Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T. Clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.